salve giurma anche questa sera nonostante il particolare giorno festivo ho deciso di tenervi compagnia dunque dopo le piacevoli gite fuori porta di quest'oggi concludiamo la giornata con la nostra rilassante lettura sussurrata di mitologia greca nella puntata di stasera leggeremo il capitolo sulla morte di eracle e sulla sua scesa tra gli dèi dunque mettetevi comodi come al solito indossate le cuffie ed iscrivetevi al canale attivando la campanella di notifica se ancora non lo avete fatto bene ragazzi non dilunghiamoci ancora con discorsi introduttivi e cominciamo subito la lettura del nostro paragrafo la morte dell'eroe e la sua scesa tra gli dèi dopo le dodici fatiche eracle compì ancora molte altre imprese viaggiò uccise altri mostri si vendicò di nemici partecipò a spedizioni corse pericoli di ogni genere stanco infine di tante avventure decise di riprendere moglie e si ricordò che meleagro durante il loro incontro all'inferno gli aveva decantato la bellezza e le virtù della sorella deianira meleagro gli aveva detto che soltanto un grande eroe era degno di lei ed eracle pensò che forse quella era davvero la donna che gli era destinata intraprese dunque il viaggio verso letoria dove regnava il padre di deianira eneo il vecchio ospitale eneo accolse benevolmente l'eroe gli offrì cibo vino e un comodo letto ma quando eracle gli espose il motivo della sua visita il vecchio sospirò ahimè arrivi tardi già da molto tempo c'è un pretendente di riguardo che insiste per avere la mano di deianira è niente meno che il dio del fiuma chelo nostro vicino è un abile trasformista sai un essere di infinite risorse che non ha alcuna intenzione di rinunciare alla ragazza la segue ovunque assumendo le forme più diverse se lei passeggia in un luogo solitario e assolato lui le strisce accanto in sembianze di serpe zufolando con finta indifferenza se lei si aggira presso le mandri e dei miei puoi lui puoi guardarlo sarà uno dei tori anzi il travestimento da toro è proprio il suo preferito guardalo laggiù quel toro più grosso di tutti con le corna ben appuntite non è altri che a che lo era che non si scoraggiò va bene io e a che lo lotteremo per deianira e il vincitore l'avrà in sposa io sono pronto a che lo raccolse la sfida e i due pretendenti si affrontarono nella lotta sulla riva del fiume quando era che lo buttò a terra a che lo si trasformò in serpente e strisciò via ho strangolato serpenti più grossi di te quando ero ancora in fasce gridò era che cercando di afferrarlo ma che lo si trasformò in toro e lo caricò diverse volte sempre però era che riuscì a schivarlo dalla sponda opposta del fiume deianira assisteva al feroce combattimento era tale la sua paura che per la maggior parte del tempo si coprì gli occhi con le mani li aprì quando sentì un grande urlo non capisse di dolore o di trionfo e vide era clevittorioso brandire uno dei corni di achelo mentre questi giaceva a terra come morto intanto dalle gocce di sangue che sprizzavano dalla fronte nel punto in cui il corno era stato spezzato nascevano prodigiosamente piccole sirene ben presto achelo rinvenne e i due lottatori si strinsero la mano hai vinto tu disse achelo perciò come abbiamo stabilito la ragazza è tua se non ti spiace però vorrei riavere il mio corno in cambio ti darò una cornucopia sarà il mio dono di nozze la cornucopia è un recipiente a forma di corno da cui escono inesauribilmente dolcissimi frutti di ogni specie ed è considerata il simbolo dell'abbondanza era davvero un oggetto molto più grazioso e utile di un corno di toro penso eracle accettando di buon grado lo scambio così riappacificati tutti gli animi furono con solennità celebrate le nozze tra eracle e deianira gli sposi che per il momento non avevano ancora una casa loro accettarono di essere ospiti di un amico di famiglia che offrì il suo palazzo nella lontana traccia all'alba eracle e deianira si misero in viaggio dovevano attraversare il fiume eveno che era in piena e il traghettatore era il centauro nesso mezzo uomo e mezzo cavallo che trasportava sulla schiena chi ne aveva bisogno ricevendo per tale servizio un modesto compenso in realtà eracle era abbastanza forte da portare deianira al di là del fiume per quanto impetuosa fosse la corrente tuttavia nesso tanto disse e tanto fece che lo convinse a lasciargli portare deianira sull'altra sponda la giovane donna salì sulla groppa del centauro mentre eracle gettati l'arco e la clava al di là del fiume si tuffava nella corrente nesso però con l'intenzione di rapire deianira galoppò nella direzione opposta a quella dove doveva andare la donna chiamò in aiuto lo sposo ed eracle recuperato l'arco scagliò una delle frecce avvelenate che trafisse il cuore di nesso il centauro si abbatte a terra agonizzante ma fece tuttavia ancora in tempo a vendicarsi ingannando deianira finse di chiederle scusa e disse non voglio morire senza il tuo perdono ma è anche giusto che io cerchi di meritarmelo in questi ultimi istanti di vita che mi restano ecco cosa posso fare per te raccogli il sangue che esce dalla mia ferita ha un potere magico infallibile se vuoi che il tuo sposo non si innamori mai di nessun'altra donna all'infuori di te fai indossare una tunica bagnata nel mio sangue vedrai ti resterà eternamente fedele fa quel che ti dico e io morirò in pace sicuro che mi hai perdonato deianira ebbe compassione del centauro morente e raccolse il suo sangue in una fiaschetta passarono alcuni anni eracle riprese i suoi vagabondaggi e i suoi combattimenti deianira restò sola ad attendere il suo ritorno un giorno infine l'eroe ricomparve portando con sé una bella schiava dalla pelle candida e dagli occhi di viola deianira pensò che fosse giunto il momento di seguire il consiglio di nesso preparò una veste di tela finissima la tinse di rosso con il sangue del centauro e la fece indossare a eracle ma appena egli se ne fu rivestito sentì un bruciore insopportabile cercò di togliersela ma la tunica gli aderiva sempre più strettamente al corpo e sempre più intensamente il veleno di cui era impregnata lo bruciava disperata per la terribile conseguenza del suo gesto deianira si uccise allora eracle non potendo più resistere alle atroci sofferenze fece innalzare una grande catasta di legna sulla cima del monte etna vi si stese sopra con tutte le sue armi e ordinò ai servitori di appiccare il fuoco ma nessuno di essi ebbe cuore di farlo ed eracle dovette attendere che passasse per quei luoghi solitari uno straniero infine transitò filottete ed eracle dolorante e supplichevole gli gridò accendi accendi ti prego dopo che filottete ebbe esaudito il suo desiderio eracle grato gli donò il suo arco la catasta bruciò per giorni e giorni ma quando si cercarono tra le ceneri resti del corpo dell'eroe non se ne trovarono avvolto da una nuve egli era salito sul cocchio di ermes e atena lo aveva condotto dinanzi a zeus era la nemica di un tempo seduta accanto al re degli dei non solo lo accolse gentilmente ma gli diede in sposa la sua figliola ebbe dea dell'eterna giovinezza sull'olimpo il monte degli dei che si innalza in tessaia eraclebbe per sé la sua sposa un palazzo tutto d'oro i poeti cantavano ora egli è un dio avendo meritato questa gloria attraverso fatiche e sofferenze ora egli vive per sempre insieme agli altri abitanti immortali dell'olimpo bene ragazzi con questo paragrafo si conclude la storia sul nostro eroico eracle e si conclude anche il nostro video rilassante di stasera dunque adesso non mi resta altro che darvi appuntamento al prossimo video del canale ricordandovi sempre di lasciare un bel like e un bel commento qui giù se questo video vi è piaciuto la beat the voice a s m r e tutto e adesso vi auguro buona notte buonanotte 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 bu